La mostra è proprio buona. Cermini, ma quando è tornata la casa? Ma prima. Ho già visto un appartamento scelto. Tiene pure la terrazza. Il prezzo è buono. E allora? Ma com'è allora? Ah, ma spicci, tu che sei arrivato là così. Non lo favo senza niente. E allora che vuoi? A me quello non mi piace. Fondamentalmente la brava Cristiana. Vabbè, ma sotto sotto è gelosello qui. Vedi come ho l'arte. E tu non la guarda? Ma chi ha pensato? Che è lei che non mi levo l'occhiato a cuore? Tu li si fissi? Mamma mia, ogni giorno questo prezzo mi fai stare in posto con tutta la giornata. Non voglio che ti trovo a casa, sei mai la casa sola. Eh, non ti preoccupare. Le disturbo se fai pagare buono. Padre, e che piaccia ragazzi stas mattina? Ebbè, avevo fatto da parlare, mangiare e basare. Saperemo già vedere. Ti avvisi quando puoi venire. Sì, vabbè, si aspetta qui. Vada, vada Padre. Mamma mia. Uè, Jenny. Mi raccomando, si torna a casa e fammelo sapere, vedi? Non ti scordare. No. 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 Grazie.